Una tecnologia nuova che viene a fare, è un'acceleratore di particelle e lui sta studiando tutta questa nuova tecnologia per l'acceleratore del CERN per cui noi abbiamo già da diversi. Questi sono alcuni macchine, ci sono alcune esperimentazioni sui macchine. Erano Erbano, ci dice un po' quella parte sul CERN? Ci sono due applicazioni particolari, una a 400 MHz e una a 500 MHz. Sono tre bande molto strette, macchine ad altissima potenza. C'è il parroco, se vi interessa, la benedizione. Perfetto, stiamo facendo un video, sei stato un time perfetto. Ma cosa ci fa uno come me parlando di Smart Cities, 5G, realtà aumentata? Torniamo un attimo indietro. Innanzitutto la colpa è di questo ragazzo qui. Sì, proprio lui. È stato lui che mi ha presentato Gianluca Busi, Technology Pusher, che poi mi ha... Ma cosa sto qui a raccontarvi? Guardate con i vostri occhi. Ho qui! Fa, lo, lo, lo Fa, lo, lo Fa, lo, lo Fa, lo, lo attraverso il vetro ti faccio causa e me e me m m m con m come la m come la m ma con l'accento m dove sei tu senegal grande io sono del messico messico siamo internazionali ho visto che Gianluca è uno che si va a fare con l'internazionalizzazione l'integrazione un melting pot funzionale ma sai l'importante è non fermarsi e no a questa cosa positiva che che non si ferma mai tutto quello che è l'uovo tutto quello che è diverso a volte va a volte si fa fatica ma sono è così devi provare devi provare bravissimo ciao e a me un piacere e a me un piacere 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 Grazie a tutti.